Io penso che abbia ragione il Presidente dell'Associazione dei Presidi e che parli con buon senso anche a nome di tutto il mondo scolastico. Io sono per la riapertura della scuola di ogni ordine e grado il prima possibile, però è evidente che le scuole devono riaprire assicurando sicurezza al personale, ai studenti e per fare questo c'è bisogno di interventi strutturali. Quindi i tre temi che qui adesso Roberta Lanzara ha evidenziato sono i grandi nodi strutturali che noi dobbiamo assolutamente risolvere. Per molti di questi tra l'altro si collegano a dei problemi che la scuola aveva già prima che arrivasse l'onda della pandemia e finché non si risolvono noi non risponderemo al tema di fondo che la pandemia ha evidenziato. Cioè come fare in modo che la scuola italiana torni ad essere con maggiore forza una scuola dell'inclusione e a rispondere a quelli che sono innanzitutto i bisogni degli studenti perché poi sulla base di questo ci sono i bisogni del sistema paese, la crescita del paese, quale posto nel mondo l'Italia vuole occupare. Tutto dipende dall'istruzione e quindi è chiaro che il tema dei trasporti certamente è un tema che va assolutamente risolto, il tema del rapporto tra le scuole e il tracciamento sanitario, il tema dei presidi sanitari interni alle scuole, il tema della priorità appunto dei tamponi, il rapporto con le ase e poi c'è un tema questo per quello che riguarda la dinamica interna del ministero e quindi proprio le politiche scolastiche più centrale degli altri per la scuola in senso di sistema scolastico che il tema degli insegnanti. Insomma il fatto che manchino insegnanti laddove non ci sono insegnanti di ruolo e ci sono supplenti è chiaro che la situazione è più grave che altrove. Quindi io qualche giorno fa dicevo finché noi non affrontiamo seriamente il problema del precariato scolastico e quindi il tema degli insegnanti è chiaro che noi ci troveremo sempre ad essere impreparati a qualunque emergenza. Il fatto che questi tre temi, quello dei trasporti, quello dei presidi sanitari, quello degli insegnanti in classe non siano stati affrontati con la necessaria determinazione durante l'estate è un problema politico aperto. Insomma io questo lo dico chiaramente io sostengo la maggioranza ma io trovo ci siano dei problemi su alcuni punti ci sarebbe dovuto fare meglio durante l'estate e oggi siamo dentro questi problemi. Quindi non basta dire apriamo la scuola apriamo la scuola per aprire la scuola bisogna risolvere questi problemi quindi è chiaro che io sostengo assolutamente la battaglia per riaprire la scuola ma io sono per riaprire la scuola avendo risolti i problemi perché altrimenti sarà un'apertura finta con problemi ancora aperti che porterà ad una nuova chiusura. Cosa che non possiamo assolutamente permetterci una volta che la scuola riapre dovrà rimanere aperta fino alla fine dell'anno o magari come qualcuno come qualcuno anche suggerisce rafforzando quelli che sono i tempi di apprendimento il tempo prolungato in modo che i ragazzi recuperino quanto perso in questi mesi troppo lunghi e troppo difficili. La cosa che noi dobbiamo fare è non continuare con interventi emergenziali ma fare in modo di avere il prima possibile degli interventi che siano strutturali e che quindi prefigurano una riforma per la scuola. Il termine riforma è abusato e appena si cita il termine riforma ci si spaventa ma la questione per me è questa prima ancora che arrivasse il covid funzionava tutto a scuola. Il fatto che in Italia ci sia un tasso di abbandono scolastico e di dispersione scolastica che è quasi il doppio rispetto alla media europea e questo incide enormemente sull'incapacità della scuola soprattutto in alcune aree del paese di funzionare per aiutare i ragazzi delle famiglie meno abbienti se smettano di andare a scuola vedono preclusa la possibilità di realizzarsi non parliamo neanche della possibilità di andare all'università perché poi tutto è collegato. Quindi il tema dell'inclusione è il tema principale le nostre scuole soffrono di molti problemi c'è un tema che riguarda certo le infrastrutture come veniva detto e il covid ci ha messo di fronte all'urgenza assoluta di avere investimenti molto maggiori rispetto agli anni precedenti per l'edilizia scolastica ma non solo perché è un tema enorme da sempre per il nostro sistema ma anche per il tablaggio per la digitalizzazione poi però oltre a questo c'è un tema di fondo che è appunto quello dal mio punto di vista il principale e lo diceva poco fa Daniela Rosano cioè il principale degli interventi è ridurre il numero degli alunni in classe questo porta ad una innovazione nella didattica porta ad una maggiore attenzione a quelli che sono i bisogni degli studenti quindi ad una maggiore inclusione ridurre il numero degli alunni in classe significa avere più insegnanti avere più insegnanti significa secondo me finalmente tornare a ragionare su una scuola che non sia un sistema che produce un precariato che è insostenibile nella nostra scuola abbiamo una bolla enorme di precariato si fa finta di non vederlo le misure che ci sono sono assolutamente insufficienti a risolvere questo tema compreso l'accordo dello scorso dicembre quindi io penso che queste siano le priorità non ci sono questi interventi in legge di bilancio anche se la legge di bilancio contiene cose importanti che lei Carlino ha citato perché uno dei problemi enormi che noi abbiamo è la mancanza di insegnanti di sostegno io ho parlato fino adesso di scuola dell'inclusione ci sono 80.000 cat di sostegno vacanti quindi l'intervento di 25.000 di 25.000 assunzioni è un intervento sicuramente importante nell'organico di diritto del sostegno naturalmente non basta ma un intervento molto importante così come un intervento importante quello sul personale amministrativo ma manca in questa legge di bilancio però il coraggio di affrontare temi strutturali che la nostra scuola ha e che dopo l'esperienza del covid nessuno può far finta di non vedere e che vanno affrontati urgentissimamente allora questo significa che gli investimenti europei e riconsegno la parola intanto ci sono già dei fondi strutturali da utilizzare penso ai fondi cosiddetti react sono più di 10 miliardi la gran parte di quelli vanno stanziati per l'istruzione pubblica e per la ricerca poi gran parte dei 209 miliardi del next generation EU il grande piano di investimenti europei per cui questo governo si è battuto con successo deve andare innanzitutto alla sanità e innanzitutto alla scuola con queste riforme strutturate appunto aumentare le classi con riducendo il numero degli alunni aumentare il numero degli insegnanti contrastare il precariato nella scuola che è nemico della qualità dell'insegnamento è nemico dei bisogni dei studenti lo stiamo sperimentando in queste settimane quindi tornando alla sua domanda ci sono certamente elementi positivi manca però una visione manca una progettualità che è quello che io contesto alla conduzione attuale dell'istruzione manca una visione forte che in questo momento di pandemia è essenziale perché con strumenti tampone noi non riusciremo a vincere questa battaglia e non basta naturalmente fare proclami senza affrontare però i nodi strutturali